Come sta cambiando il mondo del lavoro e delle imprese? Come capire quali saranno le professioni del futuro? Su questi temi si è sviluppato il convegno Future Job Summit di Parma. Interlocutore principale, i giovani studenti. Tra i relatori, professionalità del mondo delle imprese e delle start-up che hanno spiegato ai ragazzi come muoversi una volta terminato il percorso di studi. La tendenza però è chiara, serviranno persone in grado di sviluppare tecnologie, serviranno persone in grado di inserirsi nella comunicazione con modalità diverse dal passato, serviranno persone che sappiano mettere la loro creatività al servizio dell'innovazione del prodotto, al servizio della costruzione di piattaforme software. Il mondo dell'istruzione si sta allineando con le esigenze del mercato delle nuove professioni. La ricetta magica dovrebbe essere una forte collaborazione tra università e imprese, cosa che già accade negli Stati Uniti. Lì le università, seppure molto più costose del sistema italiano, hanno dei rapporti molto stretti con l'impresa. Gli studenti universitari, quelli più meritevoli, certamente molto prima di laurearsi entrano già in contatto con le aziende che cominciano a fargli una formazione parallela per poi fargli entrare automaticamente nel mondo del lavoro. Beh, questo dovrebbe essere un po' la strada maestra anche in Italia. C'è poi un aspetto che prescinde da istruzione e opportunità lavorative ed è quello che riguarda le skill personali. In un mondo in costante mutazione, vince chi riesce ad adattarsi maggiormente al cambiamento. Il cambiamento ci costringe a stare sull'onda, come si dice, a riconsiderare termini come ad esempio flessibilità, che non è precarietà, flessibilità è appunto essere pronti a cambiare, mettersi in gioco, essere empatici, capire le ragioni degli altri.